Non lo so, ma perchè non ho capito Vedete, non è un po' di... Eh, non te la faccio io buttarmi a cazzo così in quel modo perchè dopo fai... Eh, non ho detto buttarmi a cazzo, capito, però lei è in questa divisione e il mio problema è che non te lo vi dimesso Io non lo vi dimesso, ma comunque se no ti do spontaneamente ragione, mi riconosco in questo per quanto ho vanno a finire dopo un po' più giurando in realtà ho una notizia di pacca Sì, sì, no, ma sarà sempre così, ma per fortuna Non sono entrato nell'ottica Ma fai che cosa lì, è fidanzato, ti manchia un sacco di vede Poi cazzo se ne va... Ti vado là sotto, non te le fai la seghe, e che cazzo è quel cazzo del colpo? E' di che... Che cazzo ha detto? Guarda che cazzo di senso povero Quella prof, quel buon presso, quello impennato, niente Perchè non ci sono dei tiocchi? Se ne ho un video faccio di...